In questo caso parla il sindaco di L'Aquila Massimo Cialente, casse vuote, licenziamenti in vista, l'urlo di dolore di Cialente, siamo in rosso, intervenga il governo. Poi ancora un SOS per l'ASM ed altre aziende che vivono di fondi pubblici. Il clima si scalda con il durissimo attacco del capogruppo del PDL Gianfranco Giulianti al sindaco dell'Aquila Massimo Cialente. C'è uno strano caso, riteniamo assolutamente politicamente scorretto, per il quale contestualmente alla messa in cassa integrazione dei lavoratori dell'ASM si è data una consulenza a 15 mila euro al mese sulle problematiche del territorio. In questo caso parla il sindaco di L'Aquila Massimo Cialente, casse vuote, licenziamenti in vista, l'urlo di dolore di Cialente, siamo in rosso, intervenga il governo.